buon pomeriggio tra tre quarti d'ora ezio e abbiamo già le formazioni ufficiali team si ciao buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti tre quarti d'ora a questo spareggio se non altro diciamo che non piove più che ancora più difficile vabbè diciamo che giocare sotto la pioggia torrenziale che è caduta sul torino fino a stamani insomma non avrebbe agevolato un andamento della partita come dire a tutti gli effetti lineare cominciamo con la formazione degli ospiti natalata bergamasca calcio scenderà in campo con carne secchi scaldini yen jim city zappacosta ederson basalice rugeli con miners the catelera scamacca a disposizione un nutrito gruppo di uomini tra cui musso di smara toloi palomino torre l'hockman the room baker colasina cia dopo a tempo a tempo di ranchuk guidata ovviamente dalla nostra vecchia conoscenza giampiero gasperini da grugliasco che da cinque anni fa risultato sul nostro campo vediamo non oggi juventus allora la juventus scendere campo con scese in porta i tre centrali saranno brenner gatti e danilo i quinti di centrocampo cambiaso e healing junior quindi confermato titolare dopo domenica dopo la partita di napoli a centrocampo rientra mckenny dal primo minuto per cui l'interno destro sarà lui il il play molto basso sarà locatelli e l'altro l'altro interno miretti davanti il duo milic chiesa vale a dire su 11 4 fuori ruolo mi richiedono le sensazioni visto che te le chiedo sempre te le chiedo anche ora sensazione di leggerla follia oggi vinciamo bene oggi vinciamo non possiamo non vincere cioè a questo punto siamo arrivati ad un punto in cui non non si può più scherzare col fuoco e quindi anche un pregio sarebbe da considerare molto grave molto grave sarebbe la terza partita di fila allo stadio senza vincere molto gravi sarebbe ritrovarsi alla fine della 28esima giornata con una vittoria nelle ultime sette partite questo questo è per il momento e noi chiaramente ci aggiorneremo dall'intervallo in poi in live in diretta in diretta sì no non solo fino al fischio finale ma anche oltre ci vediamo più tardi